Ciao a tutti e bentornati sul canale, sono JoePad17 e oggi siamo tornati su The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Bentornati su questo titolo, nello scorso episodio abbiamo completato la missione degli Zora. Vi ho mostrato come raggiungere il Tempio dell'Acqua, come risolvere i vari enitmi per poterlo utilizzare e come sconfiggere il boss che c'è al suo interno. Oggi direi di proseguire la nostra avventura su questo videogame, completando questa missione secondaria che ci fornerà questo NPC. L'altezza, il fisico e quel braccio destro. Devi essere Link, vero? Pruna mi ha detto tutto su di te. Io sono Legends, il mio campo principale di ricerca è l'Hailiano Antico. E con Hailiano Antico non intendo i testi che appaiono nelle rovine anulari, ma qualcosa di diverso. Questa è la lingua che si usava al tempo della fondazione di Hyrule e che è diventata la base della lingua moderna. Sì, è proprio quello che intendo. Quella stelle di pietra caduta dal cielo contiene delle iscrizioni in Hailiano Antico. Decifrare il testo che appare qui potrebbe aiutarci a svelare eventi storici di un'antica cittività di Hyrule. Ho lasciato i documenti in Hailiano Antico che mi servono per decifrare l'iscrizione al centro di ricerca del villaggio Calbarico. La mia intenzione è di confrontarla con quei documenti per procedere alla sua traduzione. Ho già finito di copiare questa iscrizione e adesso corro al villaggio. Link, se anche tu hai a cuore la questione, ti invito a venire al villaggio Calbarico. Dovrei essere in grado di condividere con te le mie scoperte. Dal punto di vista archeologico, questa iscrizione ha un valore inestimabile. Un vero ponte con un lontano passato. E io riuscirò a svelare i suoi misteri, ma ora devo andare. Va bene, allora vediamo come si chiama la missione. Un messaggio dai tempi antichi. Allora, vediamo cosa dobbiamo fare. Una preziosa stelle di pietra con iscrizioni in Hylian Antico e caduta dal cielo sul Forte di Guardia. Legends, un ricercatore di Hylian Antico, ti ha detto che intende decifrare le iscrizioni confrontandole con dei documenti antichi. Ok, allora dobbiamo raggiungerlo al villaggio Calbarico. Il villaggio Calbarico si trova da questa parte. Quello è il villaggio Finterra. Allora, aspettate che attiviamo la missione, così diventa più facile anche individuare il punto giusto. E il villaggio si trova qua. Quindi possiamo utilizzare la torre che si trova in questa zona per il viaggio veloce, in modo da non impiegare troppo tempo. Allora, siamo quasi arrivati in zona. Qui sotto dovrebbe esserci il villaggio Calbarico. Vediamo un attimino. Sì, mi sembra proprio che sia lui. Allora, prima però, visto che siamo vicini ad un Sacrario, facciamo che completarlo. Vi faccio vedere come risolverlo. Perfetto, così eventualmente, se ne abbiamo bisogno, possiamo utilizzarlo come punto per il viaggio veloce. E siamo dentro. Vi faccio vedere come risolverlo facilmente. Sempre in piedi, Sacrario di Makasura. Abbiamo subito bisogno di Ascensus. Ecco qua. Così possiamo salire senza problemi. Poi, qui c'è una piattaforma. Con uno di questi pupazzetti. Prendiamo entrambi. E giriamo la piattaforma in questo modo. E la riappoggiamo a terra. Attiviamo. Lui inizierà a dondolare un pochettino. Nessun problema. Possiamo utilizzare Ascensus per salire. Oppure scalare la parete posteriore. Andiamo di qua. Poi, prendiamo questo. A cui mi sembra sia già stato collegato un pupazzetto. Sì, perfetto. Quindi, facciamo così. Potrei utilizzare Ascensus. E questa volta... Lo voglio fare. Emergi. Però devo metterlo, mi sa, un pochettino più vicino, eh. Perché se no non riesco a entrare... Lì dentro. Quindi. Preferisco arrampicarmi. Se è possibile. Siamo dentro. Abbiamo bisogno di questa sfera... Dall'altra parte per attivare il meccanismo. Quindi la appoggiamo qua. Solo appoggiarla, eh. Non attaccarla. Prendiamo il pupazzetto. Lo attacchiamo. E poi lo attiviamo. E automaticamente la sfera volerà dall'altra parte. Questo. Lo spostiamo. Qui. Lo mettiamo proprio vicino alla... Parete perché c'è un baule che vorrei andare a... Prendere. Se riesco a... Agrapparmi. Benissimo. Ecco fatto. Tonico fatato. Questa pozione rinvigorente è satura del potere delle fate. Ha un sapore lievemente dolciastro. Benissimo. E adesso noi dobbiamo tornare dall'altra parte. Come possiamo fare? Sfruttando... Quella parete. La sfera intanto si è incastrata nel meccanismo. Dicevo, sfruttando quella parete e appoggiando... Questo proprio lì di fianco. Anzi no. Scusate. Posso utilizzare direttamente Ascensus. Mi ero dimenticato che c'era questa specie di tetto. Allora, per arrivare dall'altra parte, perché comunque il baratro è bello... È bello grande. Abbiamo bisogno... Di utilizzare questo. Lo mettiamo qua. Ecco fatto. Poi prendiamo anche questo. Però voglio staccargli... L'omino lì sotto, eh. Lo mettiamo proprio qua. In modo che poi sollevi tutta la struttura, vedete? Adesso però dobbiamo un attimino disattivarlo. Benissimo. È caduto proprio dalla parte... Sbagliata. Attacchiamo questo. Prendiamo questo. Lo solleviamo. Aspettiamo un attimo che si fermi. Poi utilizziamo Ascensus. Scendiamo un attimino. Ultramano. Questo lo portiamo da questa parte. Questo lo disattiviamo. Lo giriamo in questo modo. Tiriamo via questo che tanto non ci serve. Prendiamo... Questa piattaforma. E la giriamo in questo modo. E la colleghiamo... Qui. Disattivati. Allora, è bello lungo, però... Secondo me non è ancora abbastanza lungo per poter andare dall'altra parte. Dobbiamo andare a prendere l'altra griglia dall'altra parte. Questa statuetta qua la dobbiamo... Modificare. Dobbiamo metterla in un altro modo. Ok, così è perfetto. Mettiamo il tutto vicino al bordo. Vedete che non cade. Perché ha una forza incredibile. Allora, devo prendere anche questo. E... Lo portiamo da questa parte. Perché ho bisogno di lui. Disattiviamo. Adesso cadrà in avanti. Non importa. Lo mettiamo qui. Togliamo... Questa statuetta. Poi riprendiamo quella specie di ponte... Artigianale che ho costruito. E lo colleghiamo... All'ultimo pezzo. La mettiamo proprio qua. Sul bordo. Allora, vediamo se riesco ad arrampicarmi. Questa volta mi sa che una pozione... Che mi riempie tutto il cerchio... La dovrò utilizzare. Eccola qua. Siamo arrivati giusto al pelo. L'unica cosa che dobbiamo fare... E' semplicemente aprire la paravela... E raggiungere il traguardo. Avete bisogno di tutte le griglie... Perché sennò non ce la farete mai... Ad arrivare... Qui in fondo. Ottimo lavoro. Allora, ci prendiamo... La sfera della benedizione. E siamo a posto. Eccola qua. Benissimo. Ok, adesso possiamo andare dal tipo. Dovrebbe essere qui sotto. Questo è il villaggio Calbarico. Il punto giallo è qua. Quindi... Eccolo lì. Ah, Link! Sei venuto! È la curiosità che ti porta qui, vero? Assolutissimamente sì. Non ne dubitavo affatto. Sono contento di vedere quanto ti interessa la questione, Link. Questa immagine raffigura la stella precipitata dal cielo nei pressi del Forte di Guardia. Sono riuscito a decifrare l'iscrizione grazie ai documenti in Hyliano Antico conservati in questo centro di ricerca. Ecco cosa c'è scritto. Sono la dama di corte di Re Raoul e della regina Sonia, nonché della principessa Zelda e della sorella maggiore di Re Raoul. Vergo queste 13 stelle come segno di speranza per un futuro lontano, narrando le vicende quotidiane della famiglia reale. È un testo breve e basta una prima... Penso che intendessero scrivere occhiata per riconoscere i nomi di Re Raoul e della regina Sonia, i fondatori di Hyrule. Un altro nome chiaramente riconoscibile è quello di una persona chiamata Zelda. Alla fine la dama di corte afferma che descriverà la vita quotidiana della famiglia reale in 13 parti. Potrebbe trattarsi di una sorta di diario lasciatoci da una ciambellana reale o qualcuno con un simile incarico. La parte che ha colpito di più la mia attenzione è quella riguardante il terzo nome qui menzionato, Zelda. Questo nome non era mai apparso nei documenti rinvenuti finora, ma soprattutto ciò significa che una persona con lo stesso nome della principessa Zelda è vissuta al tempo della fondazione di Hyrule. Questa iscrizione deve essere l'incipit di un poema epico sulle origini di Hyrule. A proposito, il numero 13 non attira la tua attenzione? Significa che ci sono altre 12 stele. Se questo fosse davvero il diario di una ciambellana di corte, potrebbe permetterci di scoprire un sacco di retroscena dell'epoca di cui non si parla nei libri di storia. Nuove informazioni su Re Raoul, sulla regina Sonia e soprattutto su Zelda. Altre 12 iscrizioni. Che scoperta affascinante. Se ti capitasse di imbatterti in altre stele durante i tuoi viaggi, mi raccomando, scatta un'immagine e fammela vedere. Naturalmente ti ringrazierei con una meravigliosa ricompensa. Allora, le andiamo a cercare tutte quante e vi faccio vedere dove trovarle. Ok, eccoci qua. Le ho trovate già tutte. Vi faccio vedere di volta in volta la loro posizione. Allora, la prima si trova in questa zona qua. Vedete? Proprio in questo punto, là in basso a destra ci sono le coordinate. E per raggiungerla dobbiamo utilizzare la torre topografica che abbiamo sbloccato vicino all'arcipelago di Ebra Ovest. Quindi ci facciamo sparare in alto. È parecchio distante dalle altre strutture, quindi non sarà affatto facile. Dobbiamo sfruttare le varie isole che ci sono in questa zona. Scendiamo immediatamente su questa qua qua in basso. Là sopra c'è anche un sacrario che vi farò vedere naturalmente in un prossimo video. Di fianco all'isolotto c'è una di quelle piattaforme volanti, però sopra vi è attaccato una specie di pallone aerostatico. Che possiamo sfruttare per alzare la piattaforma. Prendiamo anche questi materiali, saliamo a bordo del pallone, eccoci qua. Lo attiviamo e dovrebbe portarci su in pochissimo tempo. Infatti vedete che stiamo salendo. Io nel frattempo, visto che non ho ancora molto vigore, ho preparato alcune pozioni da utilizzare. Allora, non appena raggiunge la sua altezza massima, scendiamo e ci trasferiamo da questa parte, vicino al sacrario di Iyo-ou. Poi qui c'è una specie di martello che spara. Dobbiamo girarlo da quella parte. Allora, vediamo se siamo giusti. No. Dobbiamo spostarlo ancora un pochettino di qua. Così dovrebbe andar bene. Guardiamo da questa parte. E sì, magari ancora leggermente a destra. Adesso dovremmo essere giusti. Così mi pare che siamo a posto. Sì, così è perfetto. Così è perfetto. Quindi. Quindi, quindi, quindi. Ci mettiamo qui sopra. E ci facciamo sparare. Adesso con la paravela dobbiamo provare ad atterrare sull'isolotto. È parecchio distante, eh. Ma noi ci proviamo lo stesso. Occhio naturalmente a... Non avvicinarci troppo al centro. Perché se no, cosa succede? La parte centrale crolla. Eccolo là sotto, lo vedete? Vabbè, facciamo che scendere, va. Ok, strano. Pensavo... Pensavo cadesse giù. Invece siamo fortunati. Salviamo l'immagine. Sulla stele c'è una scritta in Ailiano Antico. Ma non sai decifrarlo. No, perché mi è capitato con... Un'altra di queste piattaforme. Ancora non sapevo che... Dovevo scattare delle foto a questi testi. Mi sono avvicinato e la parte centrale praticamente è caduta giù. E io stavo cadendo con lei. Per quello che vi avevo consigliato di non avvicinarvi troppo. La seconda stele si trova in questa zona. E per raggiungerla possiamo sfruttare questa torre qua. La torre del pian nevoso del Piocchi. Allora, siamo arrivati. Ci facciamo sparare in alto. E poi sfruttiamo i vari isolotti. Per riuscire a raggiungerla abbastanza facilmente. Mi sembra che dobbiamo andare di là. Vediamo un attimino. Allora, proviamo a girarci da questa parte. No, da questa parte di qua. Infatti il labirinto è lì di fronte a noi. Possiamo atterrare su questo isolotto qua. Occhio che ci sono anche dei nemici che stanno tentando di attaccarmi. Adesso addirittura vi attaccano mentre siete in volo. Sì, posso procedere anche a piedi senza dover per forza utilizzare quello come mezzo di trasporto. Basta praticamente seguire i vari isolotti. Occhio che ci sparano addosso. Eccoci qua. Spara dei bei colpi, eh. Vediamo se riesco a prenderlo dalla distanza. Perfetto. Ucciso. Così ce ne stiamo un po' tranquilli. Saliamo su. Prendiamo tutto quanto. Il razzo lo utilizziamo. Sapete perché? Perché in questo modo magari ci possiamo avvicinare un pochettino alle altre piattaforme. Quindi lo giriamo così. Lo attacchiamo. E lo attiviamo subito. Ci siamo avvicinati addirittura troppo. Ci siamo avvicinati addirittura troppo. Ucciso. Benissimo. Aia! Da là in fondo? Mamma mia! Eh no, non lo prendo fin là. Non lo prendo fin là. Non avevo visto quella creatura che mi stava sparando addosso. Allora. Ci conviene sfruttare i razzi, eh. Però scusate ma provo a eliminarlo, eh. Ok. Perché sennò è molto fastidioso. Allora. Doppio razzo, eh. Ne usiamo uno per muoverci. Vai. Non dovrebbe mancare molto in teoria. Dovremmo essere abbastanza vicini. Sì, possiamo anche utilizzare, guardate un po'. Questa specie di catapulta. Chiamiamola così. Allora, cerchiamo di raggiungere il nostro obiettivo. Sfruttiamo questa catapulta. Dovrebbe darci la spinta necessaria per raggiungere la stela là in fondo. preparatevi sempre delle pozioni del vigore se non ne avete tantissimo, eh. In questo modo siete sicuri di raggiungere il bersaglio al 100%. Ok, con un colpo solo ce l'abbiamo fatta. Abbiamo raggiunto la stele. Allora, scendiamo. Ok. Non crolla nulla. Facciamo una foto. E anche questa la portiamo al tipo. Terzo obiettivo. Il terzo obiettivo si trova qui. E per salire lì sopra possiamo sfruttare questa torre. Possiamo salire immediatamente qui sopra, farci sparare verso l'alto e dovremmo essere in grado di raggiungere l'isolotto quasi al primo colpo. Infatti è lì sotto, guardate. Apriamo soltanto un attimino la paravela per posizionarci sopra e poi ci caliamo con calma. Eccoci! Siamo praticamente già arrivati. Benissimo. Ve l'avevo detto! Ve l'avevo detto! Alcuni? Oddio, sto cadendo giù. Vai, precipitati. Sì, però questo accidenti finisce proprio dentro il baratro. Mi sa che finisce finisce proprio dentro il baratro. E niente, andiamo sotto terra, lo andiamo a prendere. Lo andiamo a prendere qui sotto. Ok, ce l'abbiamo fatta. Magari buttiamo in giro, che ne dite, qualche fiore per illuminare la zona. Rischiamo di farci assalire dei mostri. Dovrei averne di fiori, perché eccoli qua. Benissimo. Guardali, guardali. Questi qui li prendiamo tutti, perché ci serviranno tantissimo. ho già beccato anche quelli grandi che magari valgono di più, però tutte le volte che avete l'occasione di raccoglierne un po', fatelo. Adesso poi con calma devo esplorare anche tutta la mappa del sottosuolo. Saliamo qui e facciamo sta foto, va. Ok, così dovrebbe andar bene. Solita scritta in Hyliano Antico. Abbiamo raggiunto la torre del colle Ulri, perché il nostro prossimo obiettivo si trova praticamente qua, vedete? Su questo isolotto. Spero di raggiungerlo abbastanza facilmente. Non ci sono rocce che cadono dal cielo, giusto? No, l'unica cosa che possiamo fare è farci sparare verso l'alto e tentare di raggiungere immediatamente il bersaglio. Dovrebbe essere lì, lì dietro. Allora, apri immediatamente la paravela, giriamoci da questa parte. è lì in fondo però su nessuno di questi due isolotti riesco a salire. Forse forse riesco a scendere lì. Però sto vedendo qualcosa che non mi piace perché vedo un mostro abbastanza grosso. Cosa potrebbe essere? Uh! È un golemax! Allora, mi sono dato un'occhiata in giro e praticamente il nostro obiettivo è là in cima di fianco a quell'isolotto. Abbiamo questo mezzo a nostra disposizione però secondo me con due batterie non ce la faremo mai ad arrivare a destinazione quindi ci conviene aggiungerne altre. Quindi abbiamo ancora oltre a questa altre due direi di posizionare tutte quelle che possiamo su questo mezzo di trasporto se no non ce la faremo mai ad arrivare là in cima. Una la mettiamo qua sopra e l'ultima dovrebbe andare bene qui. Ok, proviamo ad attivare tutto quanto così direi che ce la possiamo fare possiamo anche tentare di raggiungere direttamente il luogo della stele anche se non è vicinissimo eh ho ancora cinque batterie quattro batterie non manca molto la terza è andata me ne rimangono tre si è scaricata anche l'ultima ho ancora la mia batteria quella di fianco alla cintura mi lancio dovremmo farcela allora con calma ci arrampichiamo qui dobbiamo fare attenzione perché secondo me se mi butto lì in mezzo cade il pilastro centrale allora prepariamo la macchina fotografica no questo rimane al suo posto perfetto ho sfruttato il sacrario di igoshon perché il prossimo obiettivo si trova qua quindi noi dobbiamo muoverci da questa parte e devo creare di nuovo un mezzo di trasporto per arrivare fin là perché comunque non è proprio dietro l'angolo allora qui sicuramente posso creare un mezzo di trasporto allora ho creato il classico cacciabombardiere per sicurezza mettiamo anche due batterie perché se no non ce la faremo mai ad arrivare a destinazione ne mettiamo una qua e l'altra la mettiamo da questa parte per bilanciare mettiamone tre meglio una in più che una in meno va perché non si sa mai ecco fatto e poi possiamo partire perché dovremmo essere giusti cerchiamo di far salire il nostro aereo per non schiantarci da nessuna parte la prima batteria è andata vediamo se siamo giusti dobbiamo inclinare leggermente da questa parte non vedo l'obiettivo però non vedo l'obiettivo dove caspita si è cacciato ok si è spento tutto quanto mi sono tuffato perché si è spento tutto quanto qui sopra non c'è niente stiamo andando da tutta un'altra parte così forse siamo giusti si dovrebbe essere qua sopra non c'è eccolo eccolo è qua sotto è qua sotto eravamo noi che eravamo troppo alti benissimo beh alla fine ho fatto bene a utilizzare tre batterie e è per forza caduto dritto per dritto quindi andiamo giù questo è uno forse di quelli che avevo già fatto mamma mia cadere un po' di tempo fa prendiamo la macchina fotografica e foto abbiamo raggiunto la torre dell'altopiano del pioppo perché in questa zona c'è una stele proprio qui in alto dovremmo essere in grado di raggiungerla semplicemente saltando dalla torre vediamo un po' allora non la vedo intanto apriamo la paravela così rallentiamo la caduta dovrebbe essere da questa parte infatti è lì sotto guardate proprio di fronte a noi occhio perché potrebbero esserci dei nemici quest'isolotto è un po' più grande rispetto agli altri ah ma non è quello ah ma è qua sotto scusate pensavo fosse quello infatti mi sembrava strano che la forma fosse diversa ok ce l'abbiamo fatta dobbiamo semplicemente fare la foto voilà la prossima stele si trova in questo punto qua per salirci sopra dobbiamo utilizzare la torre della piana di hyrule allora ci facciamo sparare in alto dalla torre benissimo eccolo là in fondo il nostro obiettivo ci dobbiamo arrivare con la paravela speriamo di farcela nel caso qualche pietanza che mi permette di recuperare vigore ce l'ho quindi posso eventualmente utilizzarla ok ci siamo quasi naturalmente ho utilizzato una pozione del vigore perché non ce l'avrei mai fatta ve lo dico già occhio che c'ho l'arciere che mi sta mirando bravissimo l'abbiamo ucciso al volo poi qui abbiamo due razzi uno lo lasciamo qua al centro e l'altro invece lo attacchiamo così non c'è nient'altro che possiamo prendere giusto che magari mi può tornare utile no purtroppo no non ci sono ventole anzi turbine niente speriamo speriamo che non cada quel razzo perché non è fissato ok no non cade per fortuna non cade passiamo sopra alla pianta e il nostro obiettivo è là in fondo quindi appena finiamo la corsa o se no potremmo approfittare della spinta attacca attacca ce l'abbiamo fatta non riesco a scendere perché stava procedendo in linea retta e ce l'abbiamo fatta abbiamo raggiunto anche questo adesso macchina fotografica foto e via il nostro prossimo obiettivo si trova qua e la torre più vicina in zona è questa quindi teletrasportiamoci qua ok allora facciamoci sbalzare dalla torre che si trova vicino al territorio dell'Egerudo la stele si trova là in fondo non so se ce la faccio ad arrivare fin là però allora ci proviamo qualche pietanza per riempire il vigore dovrei averla certo che però è bella distante ci stiamo riuscendo sono praticamente arrivato e eccoci qua perché lo sapevo che sarebbe crollato il pavimento no fermo link vabbè scendiamo scendiamo insieme al pezzo di roccia va ok si è fermato questa volta non è finito in un baratro quindi diventa facile anche far la foto allora ok altra stele recuperata allora ci troviamo nella torre del grande altopiano Gerudo ci facciamo sparare in alto e la stele dovrebbe trovarsi qua in zona vediamo un attimino eccola lì sì no quella la raggiungiamo facile facile anche perché è più in basso rispetto molto più in basso rispetto a dove ci troviamo noi e dovrei riuscire a raggiungerla abbastanza facilmente allora scendiamo un pochettino infatti vedete che cado molto lentamente benissimo benissimo ce l'abbiamo fatta eeeh te pareva vabbè niente atterriamo con con il pezzo di roccia va poi trasferiamoci subito perché mi sono rimasti solo tre cuori fa veramente troppo freddo due cuori e mezzo foto utilizziamo questa torre nella valle di holdin per salire in alto perché dobbiamo scattare una foto alla stele che si trova in questa zona allora vediamo un attimino tramite la mappa dobbiamo andare di qua devo capire un attimo dov'è la stele più in alto più in basso neanche magari è lì dietro vediamo un attimino è da quella parte di là eccola là vedete là in fondo quindi ci arrampichiamo un attimino salve speriamo che mi dia i materiali qua e niente sono caduti giù vabbè pazienza andiamo su con calma magari ce la facciamo eh devo stare attento perché non ho più pietanze che mi permettono di recuperare vigore velocemente e siamo belli in alto adesso i funghi non penso di prenderli perché non sono fondamentali in questo caso qui c'è qualcosa forse sì spero ci sia un passaggio per salire perché se no passare dall'esterno non è bello c'è un forziere qui dentro c'è un forziere che possiamo raggiungere passando di qua vediamo cosa nasconde l'ascito dei saggi buono buono me ne servono quattro da dare alla statua della dea questo me lo prendo di là ho visto un punto interrogativo qui secondo me infatti c'è una sfera d'energia le prendo perché mi possono tornare utili e salve oh ma mi ha completamente ignorato vabbè meglio così no non è che mi ha completamente ignorato ecco basta ha fatto finta di niente per poi sorprendermi alle spalle maledetto volevi fregarmi eh eh qui qui la vedo veramente dura a salire ci servirà parecchio vigore proviamo eh ok c'è andata di lusso veramente di lusso dobbiamo andare di là poi eventualmente posso anche buttarmi giù eh non è un problema allora carrellino turbina diamo un'occhiata in giro perché non penso di tornare qui sopra dato che ho fatto una fatica incredibile ci sono delle piante che mi permettono di creare delle pietanze o pozioni per difendermi dal miasma no comunque non vedo nulla di interessante no no possiamo possiamo tranquillamente procedere ok andiamo vorrei provare poi a scendere al volo eh speriamo di farcela in un colpo solo perché non ho più pietanze con cui ricaricare il vigore ma dovremmo farcela in teoria sì sì ce la facciamo ampiamente benissimo benissimo ce l'abbiamo fatta possiamo scattare una foto allora forse ho trovato la soluzione per recuperare la stele che si trova in questa zona ma quando salto con la torre praticamente vedete che è alla mia stessa altezza e quindi non riesco a raggiungerla andiamo per prima cosa su quell'isolotto dove c'è quella cascata ricordatevi naturalmente di possedere l'armatura zora così potrete risalire la cascata perché se no non non riuscirete a salire qui sopra ci buttiamo qui dentro perfetto intanto mi sono preparato anche delle pozioni per il vigore poi essendo che si trova là in alto dobbiamo estrarre dallo zaino un aliante un paio no facciamo quattro batterie un aeroglobo e un ignicefalo ok allora prendiamo l'aeroglobo che potete recuperare vi faccio vedere subito dove su quest'isolotto qua vedete oltre all'aeroglobo potete ottenere anche l'idrante il sempre in piedi il vettore la testa di golem comunque si trova qua e è vicino alla torre dell'altopiano pioppo mettiamo l'aeroglobo al centro questo qua che sparerà le fiamme qui sotto le batterie tutti intorno naturalmente posizionate in modo che il veicolo non si sbilanci troppo quattro dovrebbero bastare non ne sono sicuro però quattro dovrebbero bastare le colleghiamo e poi attiviamo tutto quanto e adesso pian pianino dovremmo riuscire a salire vedete ci vorrà un bel po' però stiamo salendo allora in questo modo dovrei essere in grado di superare l'isola e poterla raggiungere con la paravela vediamo un attimino siamo leggermente più in alto conviene aspettare ancora un attimo terza batteria andata adesso manca la quarta mi tuffo quando sparisce si è quasi esaurita ok si è esaurita adesso possiamo tuffarci e voilà ce l'abbiamo fatta alla fine era più semplice del previsto giuro che se cade la parte centrale ecco te pareva alla facciamo arrivare in fondo e e poi con calma facciamo la foto non dobbiamo più arrampicarci la sopra almeno almeno quello ok che bello mamma mia descrizione no si trova da questa parte quindi selezioniamo la macchina fotografica e voilà e adesso ci manca solo una stele allora mi trovo presso l'arcipelago di necluda su questo isolotto qua dobbiamo raggiungere il santuario che si trova da questa parte dove c'è l'ultima stele a cui dobbiamo scattare una foto è là in fondo e come potete vedere è bella distante ma con un trucchetto possiamo raggiungerla allora prendiamo per prima cosa questo trampolino che lo posizioneremo inclinato da questa parte benissimo poi prendiamo il velivolo che ho costruito a telecamere spente ho utilizzato quattro batterie un aliante un aeropallone un inicefalo e tre turbine spero che le batterie bastino perché prima ce l'abbiamo fatta però stavolta la distanza da percorrere è parecchia lo mettiamo qui e poi saliamo a bordo ok attiviamo tutto e incrociamo le dita allora la partenza direi che è andata bene la prima batteria è già andata dobbiamo cercare di avvicinarci il più possibile ed eventualmente anche salire verso l'alto perché vorrei poi buttarmi con la paravela mi sono rimaste già soltanto due batterie una batteria più la mia dovete essere molto precisi ve lo dico già ok sta per finire anche la mia sta per finire anche quella extra siamo belli in alto e adesso possiamo lanciarci ho preparato anche ho preparato anche delle pozioni del vigore così nel caso in cui non riuscissi con un colpo solo a raggiungere l'isolotto almeno posso utilizzare una di quelle per arrivarci ma dovremmo arrivarci tranquilli questo secondo me è l'isolotto più complicato da raggiungere ok dovremmo scalare un pochettino sì ce l'abbiamo fatta mangiamo qualcosa prima di cadere giù direi che questo può andar bene e adesso con calma saliamo uno due e siamo arrivati in cima immaginavo che anche questa piattaforma cadesse giù vabbè seguiamola diciamo che ci va bene che una volta raggiunta poi possiamo fare tutte le foto che vogliamo alla stele tanto si troverà poi qua in zona quindi no problem ok allora macchina fotografica foto allora portiamo le immagini al tipo vediamo cosa da dirci speriamo che ci dia una bella ricompensa l'ho trovata l'ho trovata le ho trovate tutte e dodici allora ecco un'immagine devo sceglierle io o gliele fa vedere lui in automatico no gliele fa vedere lui in automatico ma questo è un poema epico di Hyrule scolpito nella storia traducendo questo passaggio nella lingua moderna questo sarebbe il risultato il canto di Ray Raul incantava il mio udito la danza di sua sorella maggiore incantava i miei occhi lo sguardo di Lady Sonia che si posava gentilmente sui presenti incantava il mio cuore le giornate al servizio della mia amata famiglia reale sono frenetiche ma colme di gioia lunga vita alla famiglia reale sembra una scena di festa mentre Ray Raul cantava sua sorella maggiore danzava sotto lo sguardo della regina Sonia incredibile è la descrizione di una scena della vita quotidiana della famiglia reale anche i reali amavano il canto e la danza descrizioni così vivide di episodi simili non si trovavano nei libri di storia è come se i personaggi dell'epoca in tutta la loro personalità tornassero in vita davanti ai miei occhi questa stela è un documento storico importantissimo mia cara ciambellana grazie per questo prezioso diario pensare che questo antico testo sia giunto a noi dopo tanto tempo mi riempie di gioia grazie link accetta questa ricompensa wow allora niente le dobbiamo far vedere tutte una per una mamma mia spero che le ricompense migliorino di volta in volta allora questa è la seconda un poema epico di Hyrule Lady Sonia regina consorte di Hyrule è una sacerdotessa hilia e cittadina della superficie la regina Sonia parla francamente e senza esitazione persino quando si rivolge al re degli Zonao in persona il re la ascolta rispettoso a capochino quanta dolcezza si vede quanto apprezzi usi e modi degli abitanti della superficie qui si parla della regina Sonia allora Sonia era una sacerdotessa prima di sposare Raul e a quanto pare non aveva timore a consigliare suo marito che in quanto Zonao era come una divinità e lui l'ascoltava con ammirazione davvero interessante ok possiamo anche schippare tutto quanto naturalmente vi appare anche tutto schermo passiamo alla prossima foto mi ha dato un'altra rupia d'argento certo che se andiamo avanti così c'è il rischio che come dire arriviamo alla fine che abbiamo accumulato soltanto poche rupie ecco a te un'altra foto vediamo cosa dice il solito poema epico di Hyrule allora c'è scritto il coraggioso e sapiente re Raul amava di tanto in tanto mettere da parte gli affari di stato per dedicarsi alla caccia tocca la regina sonia nella sua immensa saggezza redarguirlo e riportarlo ai suoi doveri è come una dea in grado di vedere attraverso le intenzioni di re Raul tanto da farlo sembrare una persona comune il re risponde con un sorriso umile ai benevoli rimbrotti della regina sonia un'immagine che scalda il cuore ecco cosa dice ma è incredibile eh già come tutti diciamo che si dedicava ai propri hobby allora la vicenda viene descritta in modo umoristico questa è una risorsa straordinaria mi sa che portiamo a casa solo poche rupie allora gliene mostriamo un'altra vediamo un attimino sono curioso di scoprire cosa c'è scritto su questa solo che avrei preferito un racconto unico piuttosto magari anche una scena filmata in cui ci raccontava tutto questa sera il re è rientrato tardi la regina sonia mi ha parlato dei sacrari che mettono una luce verde in giro per il regno dopo la fondazione del regno di Hyrule per un certo tempo apparivano spesso mostri in varie regioni essi costituivano una minaccia incessante per il popolo così il re e la regina si adoperarono per eliminarli vi riuscirono grazie al potere della luce del tempo costruendo dei sacrari in cui sigillarli perché non tornassero più in vita sono i sacrari della purificazione sono grato al re e alla regina per gli sforzi che fecero quando ero giovane è merito loro se ora possiamo prosperare in pace ok un altro racconto molto interessante si occupavano personalmente dell'eliminazione dei mostri ma dimmi te si parla anche delle due gemme quella del tempo e della luce allora mancano otto stele eccone un'altra vediamo cosa dice solito poema epico di Hyrule traducendo questo passaggio nella lingua moderna questo sarebbe il risultato la nobile sorella maggiore di re Raul Lady Mineru si emerge tanto nelle sue ricerche da trascurare il sonno e il cibo per quanto mi preoccupi non c'è nulla che io possa fare quando le ho chiesto a cosa stesse lavorando mi ha detto che si trattava di un golem speciale in cui continuare a vivere in spirito in caso perda il suo corpo aggiunto che il suo spirito avrebbe potuto controllare il golem proprio come se fosse stato il suo corpo autentico ok allora la sorella maggiore di re Raul si chiamava Mineru questa iscrizione parla di Mineru quando lavorava il suo golem si dimenticava persino di dormire e mangiare wow non è che magari parlano dei golem hacks non penso eh mi colpisce molto il fatto che Mineru fosse una ricercatrice ma non è solo quello la ciambellana che ha realizzato queste iscrizioni parla di Mineru con una premura e una gentilezza che scaldano il cuore bene ti prego di accettare questa ricompensa si ma aumenta un po' queste ricompense perché non è stato facile scattare queste foto allora facciamogli vedere le altre sette allora vediamo cosa dice un poema epico di Hyrule allora c'è scritto stamane il cielo è terzo come accade di rado ho udienza con una principessa reale lontana parente della regina Sonia ha un nome grazioso Zelda la sua visita improvvisa e il suo vestiario hanno insospettito molti in effetti è ben diverso dal nostro tuttavia nessuno dubita della parentela con la regina Sonia hanno le stesse maniere la stessa eleganza e bellezza dato che la principessa Zelda si fermerà al castello per un po' mi candiderò ufficialmente a sua ciambellana anche questo anche questo è molto affascinante se ho tradotto bene Zelda era una lontana parente di Sonia ok pare che indossasse abiti inusuali al punto da attirarsi la diffidenza degli abitanti del regno venire a conoscenza di antichi eventi con un tale livello di dettaglio è qualcosa di inconcepibile appena saputo che Zelda si sarebbe fermata a lungo si è proposta come sua ciambellana ok allora prossima stele eccola qua le ho raccolte tutte vai tranquillo si comunque avrei preferito anch'io un racconto unico allora vediamo cosa dice solito poema epico di Hyrule di recente la principessa Zelda fa spesso visita alla sorella del re Lady Minero io la accompagno sempre in quanto sua ciambellana oggi Lady Minero ha mostrato un golem alla principessa Zelda alle domande curiose della principessa risposto che si trattava di un mezzo meccanico che si poteva pilotare la principessa Zelda ha voluto subito metterlo alla prova nonostante i miei avvertimenti sulla pericolosità della cosa nonostante ciò se l'è cavata abilmente montando spensieratamente sul golem e manovrandolo con facilità è davvero una persona straordinaria pare che Zelda andasse spesso a trovare Minero non ho idea di come potesse essere quel golem che poteva essere pilotato ma sembra che Zelda ci sia riuscita magari me lo descrivono in un'altra stela adesso vediamo un attimo le stelle sono una fonte inestimabile di informazioni come promesso ecco la ricompensa altra rupia d'argento allora ne mancano cinque ecco la quinta ultima voilà vediamo cosa dice ah sì non c'è dubbio traducendo questo passaggio nella lingua moderna questo sarebbe il risultato l'ultima moda in voga al momento sono gli abiti con le decorazioni di funghi tutto è nato da una sarta giunta al castello per creare abiti per la principessa Zelda la principessa le ha descritto gli abiti che vanno di moda nel luogo da dove proviene si tratta per l'appunto di abiti dai colori sgargianti e dai motivi affoggia di fungo la sarta ne è rimasta affascinata e ha deciso di riprodurli e di metterli in vendita il pubblico ha gradito avrei voluto un abito anch'io ma sfortunatamente non ho fatto in tempo ad accaparrarmelo capisco parla della moda dell'epoca pare che Zelda abbia descritto a una sarta gli abiti che andavano di moda dalle sue parti dopo di che quei vestiti con i funghi hanno ottenuto un grande successo se lo scoprisse sagono del villaggio fin terra rimarrebbe sterrefatta penso di capire chi sia comunque penso di capire chi sia altra rupia d'argento benissimo ne mancano quattro ecco la quart'ultima allora vediamo cosa c'è scritto qui sopra traducendo questo passaggio nella lingua moderna questo sarebbe il risultato giravoce che ogni notte appaia una donna misteriosa nel castello stando a chi l'ha vista è uguale alla principessa Zelda ma non veloce nei suoi occhi e il suo sguardo pare assente tuttavia la principessa Zelda sostiene di non ricordare nulla al riguardo che si tratti di un mostro o di uno spirito maligno è tutto molto interessante ma l'inquietudine mi toglie il sonno la notte una storia di fantasmi dell'antichità c'è ancora molto da decifrare ma è senza dubbio così wow figura femminile dall'aspetto cadaverico mamma mia a proposito anche qui leggo sui giornali di strani avvistamenti della nostra principessa Zelda scomparsa potrebbe essere collegata eh a questa storia cioè le sue queste apparizioni potrebbero essere collegate a questa storia allora mostriamogli le ultime tre sì sì ne ho altre tre ne ho altre tre ecco a te allora vediamo subito quella di prima era molto interessante traducendo questo passaggio c'è scritto fin dalla sua fondazione Hyrule ha superato ogni tipo di avversità ma la pace fu di breve durata la sorella di re Raul Lady Minero vorrebbe che in futuro il regno non si trovasse mai più con le spalle al muro e secondo la principessa Zelda il futuro è già stato scritto un eroe fuoriero di speranza apparirà nel cielo la principessa e Lady Minero hanno quindi ideato un piano per aiutarlo solleveranno il santuario del tempo in cielo per proteggerlo dalle creature malvagie e così il regno del futuro sarà salvo voglio essere di aiuto anch'io così ho chiesto a Lady Minero di trasportare in cielo anche le stele che ho vergato i miei resoconti saranno anche poca cosa ma vorrei ugualmente lasciare i posteri queste storie della famiglia reale è un resoconto stupefacente ecco come hanno fatto a finire in cielo sia il tempio sia tutte le stele mamma mia cara ciambellana mi hai fatto fare una fatica per riuscire a scattare tutte queste foto il santuario del tempo esiste fin dagli albori e loro lo hanno alzato in cielo per aiutare un eroe probabilmente stanno parlando di Link mi tremano ancora le mani per l'entusiasmo allora altra ricompensa mancano due stele ecco la penultima eccola qua allora traducendo questo passaggio ho assistito con i miei occhi alla scena maestosa e terrificante del santuario del tempo che veniva innalzato in cielo la principessa Zelda mi ha detto che in un futuro lontano vi apparirà un eroe unica speranza per la salvezza di Hyrule per aiutare anch'io quell'eroe ho inciso il mio diario su delle stelle di pietra che ho ricevuto dall'elimi nero la sorella del re ha innalzato anche loro in cielo le stelle rimarranno lassù nella speranza che un giorno l'eroe le trovi mi vengono mi vengono le vertigini questa è una scoperta enorme descrive il giorno in cui il santuario del tempo è asceso in cielo è una scoperta sensazionale per la storia di Hyrule ma dimmi te no veramente interessanti ci ci forniscono ulteriori dettagli sulla storia di Zelda Tears of the Kingdom e adesso abbiamo capito come mai il tempio era in cielo insieme a tutte le stelle allora altra ricompensa manca l'ultima stelle sì ne ho ancora una ne ho ancora una da mostrarti ecco a te questa è l'ultima traducendo questo passaggio nella lingua moderna questo sarebbe il risultato Raul re di Hyrule sua sorella Mineru la regina Sonia e la principessa Zelda non resta più nessuno sono tutti scomparsi e resto solo io avvergare queste parole in completa solitudine ho inciso la vita quotidiana della famiglia reale su 13 stelle il mio impegno con i posteri si conclude qui tutto ciò che quelle persone da me tanto amate hanno lasciato su questa terra che sia visibile o invisibile agli occhi spero di essere riuscita a tramandare la loro eredità una fievole speranza si fa strada dentro di me non sarò mai all'altezza della principessa Zelda ma non c'è qualcosa che posso fare per il mio popolo? d'ora in avanti lo scopo della mia vita sarà trovare la risposta a questa domanda sembra che questa sia la fine del diario la famiglia reale scomparve lasciando solo la ciambellana che l'aveva servita con tanto affetto della sua struggente testimonianza emerge tutto il suo dolore tuttavia non mi è ancora chiaro cosa sia successo esattamente forse se continuiamo le nostre ricerche riusciremo a risolvere anche questo mistero il nostro lavoro è tutt'altro che finito? allora dammi la rupia va bene anzi dammi le 100 rupie il pensiero che tesori del genere possono essere caduti in tutta Hyrule mi riempie d'emozione ma questa era l'ultima stele? le abbiamo trovate tutte 13? non riesco a crederci finalmente sono riuscito a tradurre tutto questo epico racconto sono travolto dall'emozione dopo aver letto tutto il resoconto sono profondamente commosso come persona oltre che stupefatto come ricercatore se fossi vissuto in quell'epoca avrei tanto voluto conoscere di persona l'autrice e quanto al ritrovamento di tutte le 13 stelle non avrei mai potuto farcela senza il tuo aiuto Link ora sei anche tu membro del gruppo di ricerca il nostro membro onorario questo tessuto è per ringraziarti ok abbiamo sbloccato un nuovo tessuto per una paravela benissimo ho esposto la copia sul muro al centro di ricerca perciò sentiti libero di passare ad ammirarla quando vuoi stavolta ho ottenuto qualcosa di veramente prezioso dall'analisi del testo che abbiamo scoperto credo di non aver interpretato solo le parole del racconto lasciato ai posteri dalla ciambellana ma anche i sentimenti voglio continuare a studiare l'ailiano antico per trasmettere queste emozioni a tutto il mondo grazie di cuore per il tuo aiuto allora abbiamo completato anche questa missione secondaria direi ragazzi che possiamo salutarci qua vi ho aiutato a trovare tutte le stelle con queste video e noi ci rivediamo in un prossimo episodio sempre qui su Zelda Tears of the Kingdom alla prossima ciao 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 ciao